Ciao ragazzi, ciao ragazzi, grazie per aver cliccato su questo nuovo video che come avete letto dall'anteprima è i consigli per gli acquisti di campagna 3 di Avon perché come sappiamo si sta per concludere, cioè oggi è il giorno di chiusura della campagna 2 quindi entrerà in vigore da domani 15 maggio fino al 4 di giugno la campagna 3 in un prossimo video andremo a sfogliare già la campagna 4 però intanto ci andiamo a vedere quali sono secondo me le migliori offerte da estrapolare da questo catalogo come sempre vi chiedo scusa per l'aspetto ma qui oggi fa un caldo umido pazzesco, sono uscita col cane, una giornataccia insomma iniziamo subito perché appunto ho selezionato quelle che ritengo essere delle valide offerte sul catalogo ci tengo come sempre a precisare quando faccio questo video che se non citerò alcune delle promozioni che secondo voi sono buone all'interno del catalogo è semplicemente dovuto al fatto che o non ho provato quei prodotti e quindi di conseguenza non li posso consigliare o nel mio caso magari non sono stati abbastanza performanti e quindi di conseguenza non li consiglio o semplicemente perché rientra in una categoria tipo quella dei profumi piuttosto che della bigiotteria piuttosto dell'abbigliamento per il quale non permetto di consigliare nulla a nessuno visto che c'è una grossa componente di gusto personale ma inizierei subito perché ci sono diverse offerte e non vogliamo stare qua a perdere tempo allora ovviamente l'apertura di catalogo è dedicata alle nuove uscite della Powerstay le avete viste nell'ultimo video dove ho fatto un make up totalmente utilizzando i prodotti della Powerstay quindi le prime offerte che vi segnalo sono proprio relative a questi prodotti perché come avrete potuto vedere in quel video mi sono piaciute moltissimo quindi vi consiglio se potete se volete di provare a prendere un eyeliner che viene venduto ad un prezzo lancio di 5,50 euro tenete anche in considerazione che vedremo molto make up meno di quello che avrei voluto perché comunque andiamo incontro ad una stagione che ci vedrà ancora con le mascherine indosso quindi per questo motivo credo che sia molto utile investire in make up duraturo per gli occhi perché sarà la parte di noi più esposta visivamente al prossimo e gli eyeliner si sono comportati veramente molto molto bene quindi vi consiglio per 5,50 euro di provarli così come si sono comportate benissimo le matitone ombretto i matitoni ombretto sono veramente degli ottimi prodotti e verranno venduti al costo di 6,99 euro insomma ragazze provatelo se vi fa piacere perché sono veramente dei prodotti secondo me molto validi vi segnalo tra l'altro che per ogni prodotto Power Stay che acquistate in catalogo potrete ricevere a scelta con 1,99 euro o l'acqua micellare con bifatico o altrimenti l'acqua micellare senza la componente oleosa questi sono i nuovi packaging della Nutra Effect che poi vedremo nel prossimo catalogo usciranno in anteprima come novità sul catalogo quindi per ogni prodotto della Power Stay io vi ho mostrato solo questi due ma è l'offerta ovviamente ce ne sono tanti altri poi andando avanti ritorna nuovamente ormai questo sta diventando una costante il fondotinta 3 in 1 questo qua che vedete compatto sembra una cipria ma in realtà è un fondotinta potrete prenderne una scelta 7,99 euro scegliendo un prodotto qualsiasi da pagina 21 a pagina 47 io lo segnalo sempre semplicemente perché so che a molte di voi piace che è uno dei fondotinta più venduti in assoluto ovviamente per la sua consistenza e per la sua capacità di diventare quasi un cream to powder perché questo è un prodotto che va ad escludere anche la cipria nel make up è adatto soprattutto alle pelli miste e grasse mentre una pelle secca probabilmente con un prodotto del genere si vedrebbe evidenziate tutte le pellicine tutte le parti più secche più disidratate del viso quindi sicuramente è un prodotto per pelli normali miste e grasse andiamo a vedere se in tutte queste pagine ci sono delle offerte in realtà secondo me la trovate subito una buona offerta perché abbiamo il fondotinta della Hontru con il correttore ad un costo di 10,99 euro quindi con 10,99 euro prendete correttore e fondotinta abbiamo già parlato di questo correttore è molto molto cremoso e anche nel caso in cui non vi troviate bene con un correttore in stink in questo modo per il contorno degli occhi sicuramente visto che esiste veramente in tante colorazioni comprese anche le marroni scure potrete tenerlo in considerazione per un contouring in crema perché si presta assolutamente bene un'altra promozione che devo dire è già da un po' che la vediamo comunque sia non è così raro vederla è il set rossetto matt più matita della Hontru a 8,99 euro quindi con 8,99 euro vi prendete il rossetto e una matita abbinata questi rossetti matt della linea Hontru ne abbiamo già parlato diverse volte sia i rossetti sia le matite secondo me sono dei prodotti estremamente validi che sono confortevoli sia nel metterlo sia nel portarlo quindi avete comunque sia un rossetto che ha una durata abbastanza lunga non è uno di quei rossetti che va via con uno starnuto ma nello stesso tempo non avrete il fastidio che procurano normalmente le tinte labbra quindi sicuramente è un buon compromesso per avere un bel effetto matt senza dover patire le pene dell'inferno che si patiscono normalmente con le tinte labbra in più le matite sono tranquillamente utilizzabili anche da sole nel senso che possono sostituire perfettamente il rossetto ma altrimenti vanno appunto a definire le nostre labbra e sono assolutamente da utilizzare se come me cominciate ad un essere più giovanissime perché il rossetto magari rischia di andarsi ad insinuare nel famoso codice a barra 8,99 per tutti e due un'altra offerta io ve lo citerò sempre finché vivo e finché non lo toglieranno dal catalogo sono i rossetti matt però effetto metallizzato quindi luminos velvet che saranno in offerta a 5,99 sono questi metallici quelli che praticamente a differenza di quelli che abbiamo appena visto hanno le finiture in rose gold sapete che io li amo tantissimo se vi piace la finitura matt ma una finitura matt discreta questo secondo me è un prodotto assolutamente molto valido confortevole, bello sulle labbra ha uno stupendo effetto quindi valutate se vi piace l'effetto matt ovviamente allora un'altra bella offerta è questa che prevede due prodotti a scelta a 7,90 euro oggetto della promozione sono sempre le matite questa volta occhi della Hone True e quindi abbiamo le Diamond che sono le climber stick con i brillantini all'interno e potete abbinarci per 7,90 la matita per le sopracciglia quindi sistemare e definire definitivamente tutto quanto il vostro occhio e questa è una buona offerta nel caso in cui vi servano due prodotti di questo genere sono offerte che ripeto si ripetono da un po' di tempo a questa parte all'interno del catalogo vi segnalo anche perché lo sapete ormai penso tutti che è il mio preferito è il mascara volumizzante Extreme eccolo qua che avrà un costo di 6,99 euro secondo me questo mascara 6,99 euro onestamente li vale su di me è un effetto pazzesco è attualmente sicuramente di quelli presenti in catalogo anche delle ultime uscite è il mio preferito poi allora ragazzi e qua c'è un'offerta per la cura delle mani perché altra parte del nostro corpo che sarà visibile a tutti saranno le mani quindi nel caso in cui si vogliano risparmiare soldi sui fondotinta e sui rossetti perché tanto siamo consapevoli dell'utilizzo della mascherina possiamo sicuramente investire per una cura approfondita delle nostre mani questa ve la segnalo solo se prendete l'offerta quindi due prodotti a 7,90 perché sarò sincera io adoro l'asciuga smalto lo sapete ho fatto anche un video dedicato ma 5,50 euro mai nella vita cioè l'ho sempre pagato 2,50 euro quindi immaginate che un aumento del genere per me è veramente esagerato e sproporzionato però se lo andate a prendere in combo con un altro prodotto che vi può servire per esempio il prodottino per le cuticole piuttosto che il leva smalto già è ragionevole come discorso ma presi da soli assolutamente hanno dei prezzi troppo alti però nell'offerta se può fa ancora ancora se l'altra non ha troppo manco più per l'offerta poi andiamo avanti e della linea color trend vi segnalo soltanto i rossetti matta 2,50 euro anche questi si trovano abbastanza spesso in offerta sul canale trovate gli swatch la resa del prodotto sono molto buoni se non volete investire troppo in un rossetto ma volete provare delle nuove colorazioni matt potete provare questi della color trend per me è l'unica offerta valida della color trend su questo catalogo perché vale lo stesso discorso del leva smalto io vedo degli aumenti eccessivi per quanto riguarda anche la color trend mi dispiace sapete che dico sempre quello che penso poi abbiamo l'advance techniques due offerte distinte scegli due prodotti a 7,90 euro in questa pagina troviamo tutti i trattamenti quindi i sieri abbiamo la crema per i capelli crespi abbiamo lo spray per una chioma più voluminosa quindi per tutte quelle ragazze che hanno i capelli molto fini e lisci e si appiattiscono alle radici abbiamo il siero per i capelli spezzati il siero per proteggere il colore dei capelli il siero ad idratazione istantanea e il siero per la luminosità nella pagina accanto invece scegliendo due prodotti a 5,90 abbiamo i prodotti shampoo e balsamo o gli shampoo eccoli qua nella pagina accanto quindi sono due offerte separate poi vi segnalo ragazzi questo ovviamente non l'ho provato uno perché non è una linea adatta a me perché è una linea per le donne in menopausa e perché non è stato possibile acquistarlo in anteprima in quanto non se è stato proprio possibile non l'hanno messo esce questa nuova linea appunto dedicata alle donne che stanno entrando che sono in menopausa e che quindi hanno bisogno di creme più ricche rispetto alle altre donnine ve lo segnalo soltanto perché sarà possibile in questa campagna prendere tutto il set a 37,99 euro quindi se vi incuriosisce magari prendetelo adesso perché non so poi a che prezzi arriverà però vi ripeto non è un consiglio perché è valida anche perché non l'ho potuta provare quindi semplicemente ve la segnalo come nuova uscita di catalogo vado avanti come al solito sto saltando tutte le pagine dei profumi ripeto non mi esprimo perché quello è ovviamente un discorso molto soggettivo è un catalogo anche molto ricco di abbigliamento intimo ci stava la moda mare cioè c'è la moda mare sperando che presto o tardi ci facciano sapere che cosa si deve fare comunque è un catalogo molto ricco di accessori e prodotti che poco hanno a che fare con la cosmetica arriviamo invece alle prime offerte di skin care diciamo così ci sono di nuovo in promozione tutti i prodotti dell'avon care quindi per tutte quelle persone ci sono diversi set adesso li vediamo tutti per tutte quelle persone che utilizzano le creme corpo come se fossero il pane quotidiano perché hanno famiglie numerose perché comunque ne consumano veramente tanto questi possono essere una soluzione economica e valida molto utile per mantenere sotto controllo la spesa della famiglia per esempio c'è una mia amica che in casa sono in 5 e dal marito al figlio più piccolo tutti utilizzano la crema corpo e quindi lei si trova molto bene perché altrimenti veramente non farebbe paro la profumazione dell'avon care al burro di cacao io l'adoro lo sapete per me è tipo una droga quella profumazione questo set da 10 euro e 99 include il burro per le labbra la crema per le mani il detergente corpo e la crema multiuso 10 euro e 99 la crema multiuso considerate che sono 400 ml di prodotti se invece preferite il cocco c'è anche la linea in cocco o se le volete prendere tutte e due che ha invece la crema per il viso la crema multiuso e la crema per le mani quindi un prodotto di meno c'è anche la linea all'acqua di rose e burro di karité queste sono tutte molto idratante questa anche viene 9 euro e 99 la lozione per il corpo la crema per le mani e la crema multiuso quindi qui abbiamo due creme per il corpo con una consistenza molto differente c'è anche la nuova linea 5 euro e 59 sempre della von care con la vitamina c in questo caso abbiamo solo la lozione corpo e la crema mani eccola qua andando avanti ci siamo quasi ragazzi giuro che non vi trattengo tanto vi volevo segnalare ovviamente le offerte della avonworks per la cura dei piedi perché già qua sta facendo caldissimo quindi prima o poi tireremo fuori le nostre scarpe aperte e vogliamo farci trovare con i piedi in buone condizioni e non con i talloni tutti screpolati e quindi vi segnalo le due i due set uno è una linea che noi conosciamo bene quella la lavanda ed è possibile prendere tutti questi prodotti a 9 euro e 99 sicuramente sapete che io utilizzo comunque in passato ho utilizzato lo spray questo lo compro sempre e anche la crema per talloni screpolati non mi sono trovata affatto bene con questo olio non l'ho trovato pratico per nulla e non ho non ho piacere particolare ad utilizzare anche questo tipo di crema qua per questo motivo vi ho segnalato nella pagina accanto la profumazione estiva 7 euro e 50 potrete prendere questi tre prodotti che sono sempre lo spray per i piedi in questo caso all'ananas e albero del tè l'esfogliante per i piedi all'ananas e albero del tè e poi il sieroidratante per i piedi vi consiglio anche qualora non l'abbiate già fatto di prendere in considerazione questi questo prodottino che è un calzino in silicone che va a coprirvi soltanto il tallone quindi vi consente avendo il piede tutto sommato libero che respira di poter applicare comunque il trattamento sui talloni anche adesso che fa abbastanza caldo quindi difficilmente riuscirete a tenere sui calzini per il trattamento piedi però questo vi è di aiuto sempre della home work sempre in previsione del fatto che avremo bisogno di prenderci cura dei nostri piedi nelle pagine successive se non siete interessati assolutamente alle edizioni con profumazioni particolari a 5,50 potrete scegliere due prodotti della linea basica quindi avrete il deodorante in polvere lo spray per le calzature con una profumazione assolutamente normalissima e le varie creme sia per i talloni ci sono anche le maschere quindi insomma se non vi interessa una profumazione particolare ma vi va benissimo la linea tradizionale è in promozione anche quella sono in promo ovviamente di questi tempi si trovano sempre anche le creme per il corpo in particolare le nostre creme per contrastare la cellulite ne potrete prendere due a scelta ad un costo di 16 euro a seconda dell'effetto che vorrete ottenere io sinceramente quello che vi consiglio sono i gel anticellulite e la lozione anticellulite sono buonissime tutte quante queste due si distinguono per l'effetto c'è una che è effetto freddo che direi che per l'estate è perfetta è anche per chi ha i capillari e l'altro è effetto caldo quindi fate la vostra scelta su quale delle due preferite ci siamo quasi ragazzi se non sbaglio manca l'ultima promo si l'ultima offerta che vi segnalo in questo catalogo ci sono in offerta gli smalti ci sono gli smalti della gel shine potrete averne due a 4 euro e 90 la gel shine ha veramente tante colorazioni a quello smalto con un effetto molto luminoso che ricorda appunto il gel che si possono che si può fare dalle estetiste è possibile ovviamente prendere anche il nuovo top coat come secondo smalto e questo vi aiuterà a far durare più a lungo la vostra manicure dicono quasi una settimana a me nulla dura quasi una settimana però sicuramente gel shine sono molto validi in termini di durata rispetto alla media degli altri prodotti e niente ragazzi questa è la campagna 3 da domani potrete fare i vostri acquisti sia online sul sito di Avon vi ricordo sempre che cosa gradita se potete selezionate sceglietevi una presentatrice perché in questo modo a voi non costerà nulla di più ma aiuterete sicuramente una ragazza una mamma una donna a guadagnare qualcosina di più se volete sostenere il canale anche in modo indiretto economicamente sotto trovate il link al mio shop o comunque mi trovate come sarà quanto basta e anche in quel caso io vi sarò immensamente grata altrimenti potrete tranquillamente sostenere il canale cliccando sul tasto iscriviti che è totalmente gratuito attivare la campanella se volete essere avvisate ogni volta che andrò a caricare un nuovo video ragazzi grazie 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 per essere state con me ci vediamo al prossimo video vi ricordo che c'è in programmazione sfogliamo insieme il catalogo di campagna 4 ci sarà sfogliamo insieme anche il nuovo catalogo Faberlic che invece entra in vigore da lunedì e ci sarà il make up ispirato ad un personaggio famoso della televisione poi vedremo se il tempo le esigenze e le situazioni che ci capitano intorno rischiano insomma di far modificare un pochino la programmazione vi mando un bacio grande grande grazie ancora per aver visto il canale grazie a tutti